Radio Jeans Avete anche una redazione che lavora qua con voi su testi scritti? Sì, c'è una redazione composta da una trentina di ragazzi, quasi tutti i liceali, che scrivono articoli su tutto quello che c'è dentro al padiglione orientamenti, tutte le cose più importanti, le cose che possono risultare interessanti e successivamente tutti gli articoli vengono esposti e appesi davanti alla loro redazione mobile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.